bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video sono mantello di batman e oggi andremo su drakensang online bene andiamo su drakensang online queste sono le classi questo è un gioco di ruolo abbastanza carino quale sceglieremo guerriero del drago mauro del cerchio cacciatore meccanico a favore che non posso scegliere perché non non riesco quindi io sceglierò sceglierò sceglieremo guerriero del drago i capelli mh carino 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 vediamo un po quale ha fatto lì prendere questo video di tv barbolo almeno non c'è nemmeno berbello bene questo così dai sì facciamoci così no basotti tra cagnotti tra cagnotto nome come ci viene baubaba baubaba dai baubaba chiamiamoci paul 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 e ora farò semplicemente un giro con la mappa perché inizieremo inizieremo giocare inizieremo baubaba questo è tra che in sangue online quando me lo carica era ecco da sono un po' un po' c'è un po' un po' c'è un po' buon forza buon forza paul buon 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 no spada finissima vedi erano usita spada finissima uuu draghetto uuu 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 puoi uuu 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 gioco io non sapevo che spazio cosa buon bobo verso l'infinito dai andiamo a un po' bobo giù giù da un po' bobo non 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 posto in questo via parla di strumenti Sì, scusate, andiamo a forza boh boh boh, andiamo a riportarlo, dai lasciamoci rimettare con il profilo, bisogna portarla a uno, dai, forza boh boh boh, e, sì ma oggi possiamo finire qua, abbiamo preso sta cosa bruciata, non lo so, e, al prossimo video, ci rivedremo, bella a tutti, mettete like, iscrivetevi, commentate, e, al prossimo video!